buongiorno come va e allora oggi vorrei parlare con voi scusate bevo perché sono appena tornata dalla mia corsetta di 30 minuti pomeridiana e come al solito appena mi viene un'idea sapete che devo subito parlarne anche col fiatone che sto per crepare devo dire quello che penso allora oggi vorrei parlare di una cosa abbastanza minuziosa che reputo molto importante da sapere riporto la mia esperienza riguardo al concetto per cui è importante nello studio studiare a piccoli pezzetti a piccoli contenuti perché perché un po in generale anche per come ho cercato di approcciare io lo studio e per come vedo che anche tante volte anche tante persone studiano in questo modo nel senso molto velocemente pensando di fare molto velocemente con tantissimi contenuti all'interno e questo per quanto riguarda almeno la mia persona non è possibile non è fattibile io riporto la mia esperienza riguardo a questo discorso perché mi sono resa conto che solo dividendo i discorsi proprio in blocchi argomenti riesco ad assimilare il concetto e quindi se il discorso è molto ampio questo discorso sarà da suddividere in sottotitoli in cui all'interno si scriverà man mano quello che dobbiamo imparare con un sottotitolo e solo in questo modo mi sono accorta che riesco ad apprendere con mia grandissima felicità e anche incredulità vi assicuro che vedere che riesco ad assimilare i concetti io credo che sia una delle cose più belle della mia vita perché l'apprendimento per me è una tematica davvero complicata e devo dire che mi crea moltissima ansia inserire nella testa concetti nuovi per me è una cosa abbastanza devastante devo dire la verità non voglio esagerare però ho serie difficoltà e quindi per questo che ho creato questa playlist di studio ADHD Asperger perché voglio diffondere le metodiche che man mano strada facendo con tutta la difficoltà che incontro in un modo o nell'altro riesco a rigirarla sto andando molto lenta però in un modo o nell'altro vedo che riesco a rigirare le cose e comunque riesco a capire e ad apprendere quindi comunque l'importante è arrivare alla meta poi le strade sono infinite come come ci insegnano da sempre giusto quindi cosa succede che facendo così mettendo suddividendo l'argomento in blocchi in piccoli blocchi ovviamente sto parlando di quei discorsi in cui in cui praticamente sono discorsi lunghi e all'interno appunto ci sono cose veloci c'è molto molto lunghe da capire è ovvio che se bisogna solo sapere quando è nato Napoleone quando è nato Napoleone è la risposta di quando è nato Napoleone quindi io sto facendo ovviamente un discorso di quei discorsi un pochino più lunghi un pochino più complessi e quindi cosa succede che facendo così e andando a ripassare man mano in modo continuo no gli argomenti perché sapete che poi bisogna continuare a ripassare quindi farsi anche lì una bella scaletta nel ripasso perché il ripasso è essenziale fino alla fine bisogna ripassare perché qua ci si dimentica le cose bisogna continuare a ripassare solo in questo modo entrano nella testa come dico anche in un altro video sul ripasso succede che dopo un periodo che non ripasso più e praticamente quelle cose svaniscono nel nulla cioè tipo tipo paralisi celebrale come se non le ho mai incontrate in vita mia quindi sono da ripassare però vedo che continuando a ripassarle le ricordo quindi bisogna ripassare proprio fino all'ultimo non bisogna lasciarlo quest'osso facendo così però si diventa sempre più bravi e si diventa sempre più bravi e più automatici quindi continuiamo fino alla fine rendendolo proprio parte dello studio quindi per concludere questo video facendo così creando dei piccoli pezzetti succede che noi continuiamo a ripassare quei pezzetti e vi renderete conto che senza che vi fate troppe paranoie agendo in questa maniera in automatico il vostro cervello sempre dopo un po' di tempo che ripassate ovviamente non dopo due o tre ripassi io sto parlando di una cosa continua proprio un lavoro fatto bene in modo omogeneo e continuativo che il vostro cervello da piccoli contenuti poi riuscirà a prendere a fare collegamenti da solo e andare a prendere concetti da un'altra parte che danno anche più valore al contenuto stesso quindi se all'inizio voi siete di fronte ad un contenuto molto corposo e andate nel pallone non preoccupatevi perché facendo così succede che dopo un tot di tempo è il vostro cervello in automatico che collega i discorsi e poi riesce a fare un discorso molto più lungo molto più articolato quindi non preoccupatevi su questo l'unica cosa di cui dovete preoccuparvi è di dividere in sezioni come ho detto e di continuare a ripassare in questo modo poi in automatico diventerete sempre più bravi e il vostro cervello crescerà diventerà infinito ciao a tutti una buona giornata ah quasi mi stavo dimenticando sigla quando sarà? quando sarà? il primo di ogni mese alle 8 di sera e chi ci sarà? beh spero le persone a cui è interessante questo argomento e di che parlerete? tematica ADHD e Asperger ma tu non sei un'esperta non sei una psicologa lo so però credo fortemente nella condivisione delle proprie esperienze personali e loro verranno? loro verranno? no no loro non sono invitati ciao 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 ciao